Eccoci di nuovo qua per un nuovo allenamento, un mini tutorial per allenare la parte bassa del corpo. Quindi andremo a fare degli esercizi squat, tenuta, squat jumps e un ultimo esercizio che comprende sia il jump che lo squat di tenuta. Tutto da tenere 45 secondi e da ripetere per un paio di round. Ok, partiamo! Quindi, posizione delle gambe, partiamo! Tenete bene l'addome, ombelico che spinge verso la colonna, glutei 7. Tenuta! 45 silicone di tenuta, nei quali potete anche danciare con la parte alta del corpo, è importante tenere. Teniamo bene la posizione. e squat jumps. Ricordate bene di atterrare con i piedi e di affondare. Inizia a sentirsi. 45 secondi, io ho le gambe in fuoco. 45 secondi e adesso ultima serie. tenuta isometrica, 5 secondi e un salto. Anche questo, lo ripeto, 45 secondi. Un bacio a tutti voi, stiamo a casa, ma continuiamo a allenarci per tornare più forti di prima. Ciao! 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 Ciao!